Ciao a tutti, noi siamo YourGarbage, io sono Dimitri, sono batterista, sono Ludovico il bassista, Alessandro Arini, voce Chittà, suoniamo insieme da quasi sette anni e facciamo ormai un grunge indefinito, un rock alternativo, però ci direttiamo anche in acustici come questa sera con l'unplugger sonoro. Allora abbiamo già partecipato mi sembra una volta all'unplugger sonoro, al fico esattamente, nel 2008 addirittura, mi ricordo anche la data, no comunque l'iniziativa è molto bella, poi suonare in acustico è molto interessante perché arrivi a confrontarti con i tuoi pezzi, li riarrangi, li rivivi, gli dai una seconda vita. Una figata pazzesca, questo dice tutto, chiude il tutto. Se nell'anima c'è ancora un po' di me, se nella tua vita c'è ancora un po' di me, come puoi vivere se hai quello che non hai se nella mia immagine c'è ancora un po' di me, se nella mia immagine c'è ancora un po' di me, la tua carne c'è ancora un po' di me, la tua carne c'è ancora un po' di me. offence ok oggi è Come puoi vivere Se hai quello che non hai Se hai quello che non hai Se hai quello che non hai Ciao ragazzi, ciao Italia